incendio alla celletta di pesaro appartamento devastato dalle fiamme rocca costanzo da sabato viene aperta alle visite gratuite per i pesaresi biosfera ecco i nuovi contenuti per il rush finale del 2024 nuova vita per via mazza si segnano 24 appartamenti ad edilizia già volata dal 9 settembre tavuglia diventa capitale della cultura per una settimana buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di rossini news telegiornale di giovedì 5 di settembre che apriamo questa sera con la cronaca in particolare con un incendio avvenuto questa mattina a pesaro nell'area residenziale della celletta paura nell'area residenziale della celletta di pesaro dove questa mattina poco dopo le 11 un incendio ha devastato un appartamento al piano terra di un condominio di via rossellini non lontano dall'intersezione con via del 900 per cause ancora al vaglio delle indagini dei vigili del fuoco le fiamme si sono sprigionate dall'interno dell'abitazione del civico 2 sollevando una nuvola di fumo che ha creato apprezzione in tutto il complesso residenziale gli occupanti delle condominio si sono riversati in strada e subito è stato dato l'allerta ai vigili del fuoco pompieri intervenuti con quattro mezzi per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area che ha richiesto anche la chisura temporanea del transito alla strada sul posto anche carabinieri polizia locale per gli accertamenti così come il 118 in via precauzionale per un incendio che non ha registrato ferito intossicati l'unica residente dell'abitazione non era presente nell'appartamento incendiato ed è rincasata in fretta e furia in apprensione per i dieci gatti di cui si prende cura e che gravitavano all'interno della casa in fiamme i vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo tutti i felini con alcuni vicini di casa che si sono rimboccati le maniche prestando trasportini che mettessero in sicurezza i gatti le operazioni di smassamento del rogo sono continuate anche nel pomeriggio con la dichiarazione di inagibilità dell'appartamento incendiato e le verifiche per un'analoga evacuazione dell'appartamento sovrastante da questo sabato 7 di settembre rocca costanza sarà aperta alle visite gratuite per i cittadini pesaresi per tutti i weekend appunto del mese di settembre dopo la riapertura dello scorso 13 agosto inserita nel tour capitale per i turisti assieme ad un'altra offerta di monumenti e luoghi della cultura ecco invece un'apertura destinata allo specifico della rocca 4 weekend apertura il sabato e la domenica per ammirare la corte interna la cappella e le stanze recentemente restaurate ogni sabato e ogni domenica saranno previsti 9 ingressi in diverse fasce orarie fra le 10 e le 18 sarà però necessaria la prenotazione almeno entro il giorno precedente alla visita e dalla rinascimentale rocca costanza passiamo alla veniristica biosfera attorno alla quale ieri si è prodotto un evento aperto al pubblico per illustrare i nuovi contenuti che saranno prodotti da questa installazione nel rush finale dell'anno di pesaro capitale della cultura virata la boa dei suoi primi sei mesi di vita in piazza del popolo la biosfera si rinnova per gli ultimi quattro mesi dell'anno di pesaro capitale della cultura prima il nuovo palcoscenico inaugurato con la mezzanotte bianca dei bambini ora la presentazione dei nuovi contenuti multimediali dai titoli al dream e nebula il pubblico pesarese assistito così mercoledì sera le nuove potenzialità espressive della biosfera capace di sfruttare intelligenza artificiale e interagire sugli input di performance musicali come quelle messe in scena per l'occasione dei musicisti valeria sturba e giuseppe franchellucci questa questo strumento questa biosfera è veramente sta dando degli ottimi risultati anche con il nuovo allestimento che abbiamo deciso per la piazza devo dire che con le sede che abbiamo messo attorno alla biosfera sono tanti cittadini ma anche i turisti durante la giornata si fermano per guardare i contenuti appunto di questa biosfera e noi oggi ovviamente presentiamo il nuovo allestimento ma soprattutto i nuovi contenuti della biosfera che andranno a cambiare ovviamente ogni tot di mesi è un momento importante perché i contenuti poi ci accompagneranno anche per i prossimi mesi anche quindi anche in parte per le feste natalizie abbiamo intenzione stiamo lavorando per mantenere questo assetto della piazza anche per il natale e la volontà è quella almeno al momento di mantenere l'arbero di natale nella posizione cioè sotto il comune mentre di mantenere il palco con la biosfera nel lato delle poste la biosfera quindi sarà al centro anche del palco per quanto riguarda le feste natalizie i vecchi contenuti raccontavano la storia di pesero capitale della cultura e tutto quello che riguarda il territorio mentre in questo caso andremo a spingere la biosfera verso il suo significato principale che è quello di un art content un elemento artistico quindi andremo ad aggiungere due contenuti sprettamente artistici presenteremo due contenuti inediti il primo si chiama AI Dream e praticamente è una sorta di sogno fatto attraverso l'intelligenza artificiale ci saranno dei paesaggi naturali fatti completamente in intelligenza artificiale e nessuno diciamo dei contenuti sono stati girati diciamo da un video ma sembrano veramente diciamo reali un altro è quello di nebula che è un sistema audio reattivo che reagisce praticamente alla musica proveniente dal palco oppure qualsiasi diciamo input musicale analizzato lo spettro musicale e c'è un particellare che reagisce diciamo al suono in più nei prossimi giorni presenteremo anche un concorso mondiale di composizione di nuovi contenuti per la biosfera facendone un elemento ancora più unico e soprattutto ancora più di interesse mondiale nell'occasione è stato anche presentato un nuovo progetto della casa delle tecnologie emergenti che coinvolgerà cittadini ed imprese è una piattaforma una app che i cittadini possono scaricare ci sono già 175 imprese che fanno parte di questo progetto e di conseguenza i cittadini anche oggi che sono qua presenti potranno scaricare il QR code e cominceranno ad avere dei WOM che sono appunto degli accrediti e andando nelle attività commerciali avranno delle scontistiche questo è un progetto proprio per coinvolgere il cittadino nello stesso tempo abbiamo dato anche un circuito a una economia circolare alle imprese del nostro territorio la biosfera al centro per il 2024 e poi per quanto riguarderà il 2025 come abbiamo già annunciato cercheremo di trovare una nuova collocazione era già previsto lo spostamento ma cercheremo di trovare appunto un nuovo posto dove metterla che possa al suo tempo valorizzare anche la nuova piazza o il nuovo cortile o il nuovo giardino dove andrà ubicata L'area di via Marconi di fronte all'auditorium Scavolini che sarà occupata fino ad ottobre dall'installazione Il Bosco che cammina è destinata a diventare una piazza vera e propria il sindaco Biancani e l'assessore Mengucci della Dora anticipano un progetto attualmente in fase di studio di fattibilità per il quale è già stato previsto nel lato di via dei partigiani l'inserimento di una piazza in graniglia in continuità col marciapiede dell'auditorium Contestualmente è prevista una corsia riservata ai parcheggi di macchine e motorini richieste dalle tre attività presenti sulla via e che affaceranno in gran parte sul lato della strada statale L'obiettivo è quello di riuscire a creare un nuovo spazio pubblico che valorizzi l'auditorium e garantisca l'accesso senza modifiche alle due abitazioni presenti E si completa invece la rigenerazione dell'ex palazzo Aemonimo in via Mazza Da questo lunedì 9 di settembre si aprirà infatti il bando per 24 alloggi in risposta all'emergenza abitativa nella città di Pesaro In via Mazza, ERAP sta concludendo gli ultimi lavori di finitura dell'ex palazzo Aemonimo in una proficua operazione di rigenerazione urbana e utilità sociale Un'operazione che ha consentito infatti di ricavare 24 appartamenti che saranno assegnati per uso residenziale o sociale tramite un bando di edilizia pubblica agevolata che il Comune diramerà dal prossimo lunedì 9 settembre Sono 24 gli appartamenti che saranno disponibili e una di quelle riqualificazioni prima è intervento a favore dell'edilizia e il residenziale, l'abitativo che per la nostra città è molto importante Si unisce a tutti gli interventi del PINCO a 15 milioni di euro di riqualificazione e residenza e abitazione pubblica e anche l'intervento del San Benedetto Il progetto intende dare una risposta all'emergenza abitativa della cosiddetta fascia grigia della cittadinanza ovvero quella con un reddito troppo basso per accedere ad un affitto a libero mercato ma al contempo con un reddito troppo alto per partecipare all'edilizia popolare I requisiti di ingresso al bando sono infatti quelli di un ISEE compreso tra i 13.699 e i 39.701 euro È una fascia, diciamo quella grigia, alla quale abbiamo una risposta importante con questi 24 appartamenti La speranza del Comune è quella di consegnare gli alloggi alle famiglie che saranno individuate tramite graduatoria entro metà 2025 Fumata grigia questa mattina per quanto riguarda la possibilità di prolungamento della stagione balneare a Pesaro oltre la metà di settembre Presso la sede della Capitanera di Porto il comandante provinciale della Guardia Costiera Nicola Gaudino ha incontrato i rappresentanti degli operatori balneari Andrea Giuliani e Mauro Mandolini per cercare una mediazione sull'obbligo dell'utilizzo dei bagnini di salvataggio anche oltre la data del 9 settembre Dopo che le altre province marchigiane hanno ottenuto l'ok ad avere un bagnino ogni 300 metri nei giorni feriali anziché uno ogni 150 ci sono segnali d'apertura che potrebbero portare all'inoltro di una richiesta unitaria dell'associazione di categoria all'autorità marittima La Regione Marchi informa che il CUP per le prenotazioni sanitarie sarà temporaneamente non disponibile dalle ore 13 di sabato 7 settembre e per tutta la giornata di domenica 8 settembre per attività di manutenzione straordinaria alla infrastruttura informatica Il servizio di prenotazione visita e esami verrà completamente ripristinato entro le ore 5 della mattinata di lunedì 9 di settembre Ieri poveriggio una delegazione dei consiglieri comunali pesaresi d'opposizione La regione composta da Giulia Marchioni, Dario Andreoli, Giovanni Dall'Asta, Michele Redaelli e Giovanni Corsini hanno incontrato il prefetto Emanuela Savera Greco per esternare, come scrivono, la profonda difficoltà nell'esercitare il ruolo di consiglieri d'opposizione eletti in quanto viene continuamente negato il diritto di accedere a tutti gli atti di competenza come prevede la legge In particolare i consiglieri hanno manifestato l'impossibilità di riuscire ad avere le dovute informazioni in merito alla Fondazione Pescheria, ente che nell'anno vigente gestirà 5 milioni di euro e che da oltre 40 giorni non ha consegnato il materiale richiesto contenente le informazioni per una valutazione politica delle scelte operate proprio nell'anno della capitale della cultura A pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico il sindaco di Pesaro Andrea Bancani e l'assessora Camilla Murgia hanno incontrato il mondo dei servizi educativi che ha radunato al cinema Loreto 300 maestre, educatrici, pedagogisti, assistenti, personale ausiliario di cucina e degli uffici dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali Durante la mattinata l'amministrazione ha salutato educatrici, insegnanti e impiegati andate in pensione quest'estate come Loredana Bartoli, Tiziana Ciaroni, Emanuela Gennari, Rosanna Filippini e Tiziana Battisti Ci spostiamo a Fano dove durante i lavori in corso in piazza Costa il comune ha deciso che provvederà alla rimozione e sostituzione di alcuni tigli giudicati non più sicuri in quanto severamente danneggiati da eventi atmosferici e parassiti Sono 4 gli arbusti interessati più altri 2 che saranno rimossi successivamente Tutti saranno sostituiti da ontani napoletani che al massimo raggiungono i 15-20 metri di altezza E domani altro importante appuntamento di confronto nazionale a Pesaro con la quarta edizione del forum di Impresa Cultura Italia Confcommercio che si terrà a Palazzo Montagna Antaldi Il titolo è Turismo e impresa culturale, bellezza, territori e destinazioni L'Impresa Cultura Italia è l'associazione delle imprese culturali e creative di confcommercio è preseduta da Carlo Fontana, già sovrintendente della Scala di Milano, Teatro di Bologna è presidente dell'Agis, insomma di tante istituzioni culturali del nostro paese sarà aperta da un intervento di Carlo Sangalli che è il presidente nazionale di confcommercio Il tema è di grande interesse, è il rapporto tra cultura e turismo quanto le imprese culturali, gli eventi culturali, le iniziative culturali determinano in termini economici per un territorio Non a caso ci saranno anche rappresentazioni di case history cioè di situazioni, compreso Ierosini Opera Festival cioè quanto Ierosini Opera Festival dà in termini economici al territorio della città che sarà esemplificata dal vice sindaco Daniele Vimini e con il ROFA anche altre esperienze a livello nazionale Insomma si vuole fare un ragionamento supportato anche da tanti docenti universitari anche dell'università degli studi di Urbino ma anche di altre università italiane sull'importanza che ha la cultura per l'economia del nostro paese e qual è il rapporto tra cultura e turismo Noi di Confcommercio Peso Urbino che abbiamo richiesto di poter organizzare questo evento a Pesoli in occasione di Pesolo 2024 capitale italiana della cultura Riteniamo che cultura e turismo siano due iniziative, due eventi, due settori che debbano dialogare sempre più strettamente per creare le opportunità di sviluppo economico del territorio uno sviluppo economico basato sulla valorizzazione della bellezza che è un po' il nostro progetto itinerario della bellezza che sarà presentato in anteprima proprio in occasione di Impresa Cultura Italia Da Palazzo Antaldi al Salone Metaorense della Prefettura dove domani pomeriggio ci sarà un altro importante convegno sul tema dell'informazione e della tutela dei minori a mezzo stampa Bambini protagonisti, i due volti della cronaca e questo il titolo del convegno di respiro internazionale che si terrà venerdì 6 settembre nel Salone Metaorense della Prefettura di Pesolo Urbino a partire dalle 17.30 Un momento organizzato dall'Ordine dei giornalisti delle Marche in collaborazione con Unicef che metterà a confronto giornalisti europei per cercare strade condivise sulle rispettive norme deontologiche relative ad un tema delicato come la tutela dei diritti dei minori a mezzo stampa Un momento soprattutto di confronto cioè inutile parlarci a volte dentro casa bisogna avere confronto anche con altre realtà in questo caso con le realtà europee quindi vogliamo vedere come gli altri paesi altri giornalisti all'altra informazione si occupa dei minori quando sono coinvolti in fatti di cronaca quindi credo che sia un confronto utile soprattutto per arrivare ad una carta europea sulla tutela dei minori cosa che l'Ordine Nazionale dei giornalisti aveva già iniziato a fare con una risoluzione che è comunque già all'attenzione da anni del Parlamento europeo Unicef difende tutti i diritti dei bambini tra i quali c'è il diritto alla dignità e al nome del bambino ecco la difesa che grazie a Franco che questo convegno che è molto interessante perché affronta un argomento diciamo che è sempre stato nella storia però insomma adesso è sempre più contingente la prima volta che avviene un confronto in Italia con giornalisti stranieri in questo caso ci sono giornalisti che sono corrispondenti in Italia dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Olanda, da Bulgaria e Albania quindi credo che appunto il confronto serva per arricchire per trovare anche una formula possibilmente unitaria nell'ambito dell'informazione è importante come tema perché è un tema in costante evoluzione quindi è importante anche una nuova attenzione soprattutto un confronto tra i professionisti che questo avvenga a livello europeo perché è un tema che cambia nel tempo nel senso che cambiano le sensibilità e anche giustamente così come cambiano le normative a cui poi bisogna sempre far corrispondere un po' la realtà e cambia nello spazio perché anche i differenti paesi non hanno lo stesso approccio non hanno la stessa sensibilità quindi arrivare a una visione quantomeno europea oltre che necessariamente mondiale ma in tanto europea del tema è importante e cambia anche nei supporti perché chiaramente un conto è la regolamentazione riguardante i media tradizionali carta stampata e televisione dove già non è sempre facile fare rispettare delle policy un conto è con tutto l'avvento del digitale dei diversi modi e tempi di racconto chiaramente questo diventa ancora più complesso da ordinare e da fare rispettare nel di là di quello che è la base del principio etico che sta nella professione e anche nell'approccio a volte anche di chi legge o di chi cerca le notizie magari più di un certo tipo non di un altro la tutela dei minori si deve esercitare attraverso una protezione dei minori ma senza nasconderli cioè non dobbiamo eliminarli dall'informazione ma solamente proteggerli quindi proteggerli quando ci sono delle ricadute negative delle conseguenze negative nel confronto allo sviluppo del minore e concludiamo il nostro telegiornale andando a scoprire quale è il comune destinato a essere capitale della cultura per una settimana dal prossimo 9 settembre il comune di Tavulia per tutti noto come un comune capitale di moto e motociclisti si prepara dal 9 al 14 settembre a vivere una settimana da capitale al quadrato con il progetto 50x50 di Pesaro 2024 il titolo del programma è Tavulia vale oro con proposte per tutti tra arte, storia, musica, sport e fotografia bisogna aspettarsi una settimana di cultura piena abbiamo evitato di mettere all'interno del contenitore Valentino Rossi perché già gli dedichiamo da stasera tre giorni di festa e altre tre dal 19 al 21 per cui abbiamo incentrato il tutto sulla vera e propria cultura partendo dalla natura soprattutto che la fa da padrona a Tavulia abbiamo creato in tutti questi anni dei sentieri alla fine dell'anno avremo circa 80 km di sentieri all'interno del nostro territorio quindi questi paesaggi bellissimi questi colori eccetera eccetera poi questa settimana parleremo di storia cioè Tavulia è conosciuta sia per lo sfondamento della linea gotica sia per la battaglia di Monteluro del 1443 8 novembre 1443 ed è stata la battaglia più importante del secolo del 1400 poi parleremo di musica parleremo di inclusione di disabilità inclusione faremo una giornata insieme coniugando e riunendo i diversamente abili con gli abili con le persone abili quindi per dare una giornata di gioia di sollievo a questi ragazzi meno fortunati di noi una scelta molto intelligente quella della settimana entrante perché permette di creare un'onda lunga già da questo weekend di Tavulia in moto con il Gran Premio Misano di domenica e soprattutto di riaffermare non solo un brand ma quello che è anche il legame con Pesaro con il territorio che è nato su vari fronti intanto la terra dei piloti dei motori il connubio creato anche quest'anno tra Castello Magico di Tavulia e la mezzanotte bianca dei bambini tutta una serie di attività che ci lega dal punto di vista gastronomico del territorio del paesaggio tra l'altro Tavulia è una rete importantissima di sentieri che stanno anche crescendo è una settimana che naturalmente ha l'aura e il colore di Valentino e della terra dei piloti di motori ma che parla anche di tanto altro parla di eccellenze parla di percorsi parla di musica di fotografia di teatro di connubio tra rock e opera quindi veramente un programma molto ricco che cade in un momento strategico che è della capitale della cultura e che sarà di interesse non solo per i pesaresi anche per la vicina Romagna ma penso per tutti i turisti che sono ancora qua nel territorio e anche per tutta la provincia perché questo progetto poi del 50x50 serve anche per un turismo culturale interno per far scoprire a tanti di noi comuni della provincia che magari non sempre conosciamo abbiamo visitato quindi anche questo scambio tra costa e aree interne veramente molto importante e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente in questo giovedì sera che alle 21 e 20 vi porterà con le nostre immagini a Borgo Pace per la prima edizione del Cascio Burger Fest una iniziativa volta a valorizzare i prodotti del territorio come il vitellone dell'Appennino e la casciotta di Urbino da Borgo Pace 20 minuti dopo ci sposteremo invece a Cogli al Metauro andremo alla scoperta del Museo del Bali in questo speciale dedicato in programma alle 21 e 40 e poi naturalmente vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7 e 20 vi aspetto con una nuova edizione di Buongiorno Rossini dedicata alla rassegna stampa dei quotidiani locali e si chiude invece qui questa edizione del telegiornale Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi 灵 aspetta a B a B